Allora noi abbiamo avuto purtroppo tra i vari primati abbiamo quello di essere il paese a democrazia, quindi tra i paesi occidentali, quello che è stato l'obiettivo del più vasto e più grande programma di azione politica clandestina, manipolazione di guerra psicologica tra i paesi occidentali e quello anche che purtroppo vante il più alto numero di stragi, quindi l'Italia ha questo primato. Noi tra tutti i paesi occidentali, europei ma anche occidentali nel mondo, siamo stati quelli più colpiti da questa arma, da questa terribile arma. Questo lo dice l'ex direttore della CIA e questo lo dicono purtroppo i numeri, perché noi abbiamo avuto dalla fine della seconda guerra mondiale a oggi 13 stragi. Non c'è nessuna democrazia occidentale che abbia avuto un ugual numero di morti e di stragi.